Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa del giovedì, giovedì 13 di febbraio 2020. Siete sul canale 17 di Fano TV e tra poco vi diremo e vi daremo tutte le notizie presenti nei giornali in edicola questa mattina, una selezione ovviamente delle notizie più importanti. E allora il giorno si apre come sempre qui a Fano TV con il Santo e poi le previsioni per la giornata di oggi e anche quelle di domani. Vediamo il Santo di oggi. Oggi la Chiesa Cattolica tra i vari Santi e Beati ricorda le Sante Fosche e Maura. Il Sole sorgerà alle 7.10 e tramonterà alle 17.35. Dicevamo del tempo, un tempo che ancora oggi ci regalerà una giornata decisamente primaverile con temperature abbondantemente al di sopra della media del periodo. Anche se quelle della notte effettivamente erano in diminuzione e ci sono infatti gelate isolate nei fondovalle interni, soprattutto nel centro della regione, mentre sulla costa le gelate non sono presenti. E dunque più che altro nei fondovalle. Per quanto riguarda la giornata di domani, domani è il giorno di San Valentino e è così il richiamo soprattutto alla perturbazione che porta il nome del Santo degli Innamorati. La perturbazione che porterà anche rovesci sparsi durante le ore notturne al primo mattino di domani, temperature che sono insensibili, aumento soprattutto quelle della notte, le minime, mentre in lieve diminuzione quelle massime. Ci saranno anche dei venti che ruoteranno da nord-ovest per poi diminuire di intensità dal tardo pomeriggio e avremo quindi domani precipitazioni diffuse un po' su tutta la regione. Ma tornerà il bel tempo sabato ma anche nei prossimi giorni, tempo stabile e soleggiato su tutta la regione con le isolate gelate nei fondovalle interni. Nel nottetempo è il primo mattino di questo fine settimana che si sta avvicinando. Andiamo a leggere i giornali, apriamo la rassegna stampa però con la prima pagina del resto del Carlino di oggi. La Chiesa non cambia, Papa Francesco frena la svolta, stop dunque ai preti sposati, no al diaconato femminile. Tutto resta come è da duemila anni a questa parte. Longhi Ceriscioli, siamo sul Corriere Adriatico invece, area di accordo, parliamo delle elezioni regionali. La Mancinelli però vede Zingaretti a Roma, gli alleati del PD, un solo nome, no alle primarie. L'ex rettore dice se si fanno, io però ci sono. Il governatore, se lui unisce, mi ritiro. La sindaca mi ha chiesto di incontrarci e probabilmente questo incontro avverrà già nella giornata di oggi. Sulla sanità a centro pagina, più ombre che luci, sindacati confederali critici sul nuovo piano regionale, mancano strategie e obiettivi coerenti. Sotto invece triplice tentato omicidio, chiesti i 17 anni di carcere a un giovane fanese che colpì con il coltello l'ex compagna e poi cercò di investire la figlioletta e il soccorritore. A centro pagina, Lucia Annibali. Insulti a Lucia, non ho paura, riforma prescrizione sui social, inneggiano a Varani contro appunto la Annibali. Incinta e senza casa, ti aiutiamo, gara di solidarietà per la donna all'ottavo mese di gravidanza e poi cercò di accoltellare e investire la ex, il PM chiede 18 anni, ci cerchia alla sbarra mentre sull'omicidio Grilli, imputati inguaiati dai cugini. Villa, scusate, via Craxi, Villa Fastigi contro Ricci, un tradimento. Sulle spese pazze invece il verdetto della Cassazione annullate, quattro assoluzioni, c'è anche SPAC. E poi il funerale di Giancarlo Morbidelli, papà un ruspante con la testa di un genio. La storia, epatite C dopo la trasfusione, chiedo giustizia, termini scaduti, non ha ottenuto risarcimenti ma la malattia non ha scadenze. E poi si parla della Final Eight, di Basket, alberghi pieni a Pesaro, Vitri Frigo Arena, oggi il via alle sfide, venduti 20.000 biglietti fino a domenica. Violenza sull'ex compagno e la figlioletta. La PM chiede oltre 17 anni di carcere, questa è la pagina di Fano del Corriere, triplice tentato omicidio, Matteo Cicerchia sferrò coltellate alla donna e cercò di investire anche la bimba, la figlia e il soccorritore. È una richiesta di condanna a 17 anni e mezzo di carcere, così il Pubblico Ministero Valeria Cigliola nella requisitoria del processo a Matteo Cicerchia, il 27enne fanese, che il giorno di Pasquetta di un anno fa aggredì l'ex compagna con un coltello e tentò di investirla in strada a San Nicola insieme alla loro figlioletta di 5 anni e a un soccorritore. Ieri c'è stata l'udienza in rito abbreviato davanti al giudice Francesco Messina nel tribunale di Pesaro. La PM ha ricostruito l'escalation di violenza e ha chiesto appunto 16 anni più un mese di arresto per la contravvenzione di aver portato con sé le armi, i coltelli e un anno e quattro mesi per dei maltrattamenti di 5 anni fa. E poi sotto Capitale della Cultura si definisce la squadra, incaricate dopo Omnia, la società San Gio e Maggioli, un dossier che verrà presentato entro il prossimo 2 di marzo. Si parla di Carnevale, si parla del nostro programma Processo al Carnevale, processo al Carnevale che è andato in onda e che andrà in onda la domenica sera per tutte le sfilate, alla fine delle sfilate domenicali, dopo il magazine Sette per Occhio, quindi intorno alle 20.55. Si parla questa mattina di Cora Fattori, che è stata uno dei nostri ospiti. Cora Fattori che ha puntato soprattutto sulla professionalità che è necessaria all'interno, o meglio, che è necessaria per organizzare una manifestazione così importante come il Carnevale di Fano. Il titolo del Corriere di questa mattina è Professionalità non cadute di stile, il Carnevale non è una festa di paese. La Presidente della Commissione Bilancio, che appunto Cora Fattori, attacca la gestione della Carnevalesca, chiede più risorse per i carristi e dice che così non va, che non si può continuare a far finta di niente, specie se si è investiti della responsabilità di guida della città. E lei parla appunto circostanziando le critiche rivolte a caldo durante il processo al Carnevale di Fano TV, Fattori sostiene di farsi anche interprete del pensiero di tanti cittadini, specialmente i commercianti, che dopo la scelta come ambasciatore del Carnevale di Povia, dopo la non curanza verso il Pincio, dopo il video di discutibile qualità, si sono chiesti dove fosse l'amministrazione e perché non desse alcun segnale di disapprovazione. E in questo caso ci ha pensato lei. Contro il silenzio finora assordante sulle scelte fatte, Cora Fattori chiede svolta di qualità. E poi gli esercenti, i commercianti che dicono effettivamente che 12 euro il biglietto di ingresso sono troppi. Contestato il sovrappezzo, chi paga alle casse, cioè quei 2 euro in più rispetto a chi paga invece 10 euro acquistandolo attraverso l'online e quindi internet, nel 2021 intanto si annuncia che il tema sarà Dante. E poi si parla dell'incasso, l'incasso della prima sfilata di Carnevale, 64 mila euro per 11, quindi 64 mila euro di incasso per 11.900 biglietti venduti. Accelerazione invece sul digestore anaerobico, la politica litiga sull'urgenza, cioè sulla mozione che è stata aggiunta in extremis alla seduta del Consiglio di oggi. Le minoranze parlano di un colpo di mano e all'unisono, compatte, accusano la maggioranza fanese di aver forzato la mano. Chiederemo la revoca e il mandato alla Presidente Carla Cecchetelli, Presidente del Consiglio, ha detto ieri Luca Serfilippi della Lega, la proposta troverà il muro del centro-sinistra locale. Un paio di ore dopo l'intervento di Serfilippi, sia Giovanni Clini del PD sia Carla Luzzi della lista in comune hanno manifestato solidarietà alla Presidente Consigliare, usando nei suoi confronti parole di elogio per il lavoro svolto sinora. Sotto accusa ancora la Cecchetelli, appunto difesa della maggioranza, la fretta è contro i privati. Stop invece di Federico Talè di Italia Viva al progetto di Barchi, sempre per quanto riguarda il digestore anaerobico. Sapete, me l'abbiamo già detto più volte, c'è un progetto che riguarda un digestore di 40.000 tonnellate, progettato da una società privata, la Feronia SRL, che vorrebbe costruirlo a Barchi, di fianco all'ex discarica. Questa notizia che è arrivata qualche settimana fa ha di fatto scombinato i piani invece del comune di Fano, che vorrebbe realizzare un suo digestore, quindi gestito da un'azienda pubblica poi di sua proprietà, ovvero Aset, e adesso sta accelerando i tempi per non farsi sfuggire questa occasione, perché poi naturalmente non è che possono coesistere due impianti come questi in una sola provincia, quindi o una o l'altra. O il privato, quindi la Feronia, che la realizza a Barchi, anche se non è così semplice come come uno potrebbe pensare, oppure dall'altra un impianto pubblico gestito da un'azienda pubblica, quindi Aset, nel territorio però di Fano. E anche a Fano la questione non è semplice perché ci sono comitati che si battono per il no, ci sarebbe un referendum che si è approvato, insomma darebbe la parola ai cittadini e via discorrendo. Qui invece siamo sempre sul Corriere Adriatico, ma la pagina di Pesolo per il funerale di Giancarlo Morbidelli. Morbidelli ha dato tutto a Pesolo e adesso la città onori la sua storia. All'esequio dell'imprenditore Don Marco, il parroco, si rivolge direttamente al sindaco di Pesolo che era presente con il gonfalone della città al funerale. Mentre il figlio di Giancarlo dice, mio padre è stato una persona umile, con la testa di un genio, tanti anche gli ex piloti presenti alla funzione. Papà Giancarlo Ruspante con la testa di un genio, addio a Morbidelli, le parole del figlio con la voce rotta dall'emozione, era semplice, discreto, altruista e generoso e sempre umile. E queste sono le foto scattate all'interno della parrocchia del porto, mentre Don Marco, appunto il parroco rivolto al sindaco, dice la città saprà dare un segno concreto in memoria di un personaggio così grande. Ed eccola la foto di Giancarlo Morbidelli. I presenti, i campioni che hanno fatto storia, Pier Paolo Bianchi, Mario Lega ed Eugenio Lazzarini, ieri erano tutti quanti presenti al funerale del re delle moto. Ci cerchi invece, siamo sulla pagina di Fano del Carlino di nuovo, ci cerchi a deve essere condannato a 18 anni e la pena chiesta ieri dalla Procura al processo contro il giovane che cercò di accoltellare e investire la ex. Mentre Corafattori, troppe polemiche, non fanno bene. Anche il resto del Carlino riporta l'intervento di Corafattori, Corafattori che ha voluto precisare il perché di certe esternazioni, nulla di personale in sostanza, ma insomma anche come responsabile, come consigliere del Comune è intervenuta, soprattutto per il bene di questa bella e grande manifestazione. Poi Massimo Seri che vuole una mozione per dedicare una via a Bettino Craxi, ma il PD gli risponde, picca e gli dice no. Ho visto Sesto morto a terra, qui siamo alle testimonianze durante il processo per l'omicidio di Sesto Grilli, 74 anni, di San Lorenzo in campo, trovato morto in casa, legato il 17 marzo scorso. Imputati, ci sono tutti accusati di omicidio in concorso, ci sono Nino De Luca, 28 anni, il fratello Franco De Luca, 40 anni, Dante Lanza di 34 e Massimiliano Cagliazza di 28 anni di Cosenza. Il primo a parlare, ieri è stato il vicino di casa, Grilli mi aveva confessato di aver paura dei ladri perché in passato aveva subito un furto, mi chiese di passare ogni tanto, così quando tornavo a casa spesso andavo davanti alla sua abitazione e la sera di quella domenica ho visto la luce accesa e la porta semi aperta, l'ho visto a terra, ho chiamato l'ambulanza e poi ho scavalcato il cancello e sono entrato per 10 secondi, un tempo minimo su cui si è insistito tanto in aula, ho capito che non era un malore, aveva la faccia avvolta da un nastro adesivo, istintivamente ho strappato un lembo di scoccia dal naso per liberare la narice e capire se poteva ancora respirare e la casa ho visto che era a soccuardo, lui era morto, sono uscito e così ha raccontato il vicino di casa ieri durante l'udienza di questo processo. Poi invece a San Lorenzo in campo, sempre dal Corriere, partiti i lavori per ultimare la variante alla 424, a San Lorenzo il sopralluogo di Minardi e del sindaco del paese dell'Onti. Ancora dal resto del Carlino, delitto grilli, i cugini inguaiano gli imputati, testimonianze chiave da parte dei parenti, i quali hanno affermato di essersi resi conto del coinvolgimento dei De Luca nei fatti. Ci sono particolari dettagli che sono emersi ieri nel corso della quarta udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Pesaro, accusati dalla sua morte, abbiamo detto, tutte le persone, queste quattro persone che ieri erano in aula dietro alle sbarre, non si sono mai parlati né si sono scambiati sguardi, l'aula era affollata di parenti dove hanno sfilato di nuovo i testimoni dell'accusa. E il racconto è che Nino De Luca, dice, mi ha confidato che per colpa del fratello rischiava 30 anni. Il vicino dei casi invece, ho visto la luce accesa, sono entrato e ho trovato sesto a terra, praticamente morto. La polemica invece politica sul digestore da costruire a barchi, la maggioranza e la minoranza si lanciano delle freccette, non vogliamo creare difficoltà né a Aset né al Comune di Fano, siamo aperti alla condivisione, alla compartecipazione maggioritaria o minoritaria da parte dei Comuni interessati di Aset e Marche Multiservizi e questo ribadisce Francesco De Angelis, che è l'amministratore delegato della Feronia SRL, che ha presentato in provincia il progetto per la costruzione delle terre roveresche vicino alla discarica di barchi di un digestore anaerobico da 40.000 tonnellate e il progetto sarà oggetto, proprio questa mattina in provincia, di un incontro tecnico e c'è, mentre a Fano c'è questa guerra di mozioni per il Sindaco Seri, la minoranza cerca di fare dei dispettucci per evitare i temi. Andiamo nelle cronache interne del Corriere, qui siamo a Fossombrone, rivitalizzare Corso Garibaldi, la scommessa ora condivisa. Tavolo tecnico in comune, le richieste dei commercianti e la disponibilità della Giunta. È dunque un clima disteso e costruttivo, finalmente il tavolo tecnico per studiare come sia possibile rianimare il corso a Fossombrone e il suo centro commerciale naturale, in realtà tanto che tornerà a riunirsi con periodicità regolare. Ed è stato quindi un commento generale al termine di questo incontro, il municipio dove erano presenti il Sindaco Bonci, l'assessore Gloria May, il capogruppo di maggioranza Giuliano Spinaci, poi c'era Michele Chiarabilli per la minoranza, il presidente delle associazioni di commercianti Giorgio Aguzzi, i rappresentanti di CNA, confartigianato con Fesercente Commercio e poi dei ristoratori e altri ancora. Quindi vuol dire, ecco quindi la fotografia, come vedete, di questo primo tavolo tecnico, dove tutti, sia i pro e chi è contro, chi era favorevole, insomma chi durante anche il periodo natalizio si è lanciato freccetta a destra e sinistra, insomma si sono ritrovati tutti insieme per cercare in maniera condivisa di trovare una soluzione e di aiutarsi piuttosto che dividersi, di unirsi piuttosto che dividersi. Poi andiamo sulla pagina di Vallefoglie invece, incorporazione di Monte Ciccardo, anche la provincia ha dato il suo via libera, il voto all'unanimità, in consiglio affrontata l'emergenza cimici asiatiche che resistono a tutti i trattamenti, si è parlato persino di quelle fastidiosissime e maleodoranti, soprattutto se vengono schiacciate cimici asiatiche che resistono purtroppo anche ai trattamenti, quindi c'è un'invasione di questi cimici. Poi a Vallefoglie invece, e qui c'è di taglio basso, l'appuntamento con il Festival dell'Amore, si avvicina il fine settimana di San Valentino e dunque si avvicina anche la prima edizione di questo Festival dell'Amore di Vallefoglie, un evento che ha già fatto parlare di sé per inviti a personalità come Greta Thunberg, Liliana Segre, David Sassoli e Ivan Cottini. Questo Festival dell'Amore si terrà al centro commerciale Le Cento Vetrine di Morciola da domani a domenica e si parlerà dell'amore a 360 gradi. Domani, e qui c'è l'appuntamento, già il primo appuntamento, c'è l'inaugurazione alle ore 10, dove ci sarà anche il consigliere regionale Andrea Biancani, poi la vicepresidente della provincia Chiara Panicali e poi l'amministratore unico di Svim, Gianluca Carrabs, oltre naturalmente al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Da Urbino parla Lino Mechelli che dice Ho lasciato Italia viva per Urbino, non amo la politica così aggressiva. Mechelli tra elezioni regionali e governo della città ribadisce la sua lealtà al sindaco Gambini. E poi ancora, sempre da Urbino però il resto del Carlino, Alvie e lavori Anas e il caos a Canavaccio. Per fare una rotatoria si stravolge la viabilità della frazione, Tutti i mezzi devono passare nella zona industriale, ovviamente ci sono disagi e anche delle proteste. Chi ha un'attività commerciale dicono ora rischia di andare all'aria nel giro di tre mesi. La fermata degli autobus per gli studenti è stata spostata in un punto poco comodo e non facile da raggiungere. Queste sono le fotografie della strada che è stata chiusa, chiaramente con inevitabili disagi e proteste. Lucia Nibali che è stata attaccata sul web, minacciata, Varani mito addirittura, a scrivere quel post allucinante Stefano Coluzzi, un nome che è quasi sicuramente falso, lei al telefono dice mi insultano ogni giorno. Lucia Nibali che è sotto attacco di ATER, cioè di persone coperte dall'anonimato dei social e che offendano e dileggiano chi non la pensa allo stesso modo. Ieri è toccato appunto all'Annibali, impegnata la Camera nella contesa politica sulla prescrizione, un profilo falso su Facebook che rispondeva al nome di Stefano Paluzzi, subito dopo sparito, con il profilo cancellato, ha scritto intorno alle 5 del pomeriggio di ieri, Luca Varani, scusate, sei il mio mito. Oppure ancora altri messaggi tipo, onore e grazie a Luca Varani, hai fatto il tuo dovere da uomo. Pensate, misera, infame, Luca Varani, ciò che ha fatto è stato poco per una donna viscida come te, che si lega a Renzi, ho goduto quando ti ha sfigurata. Pensate la cattiveria umana fino a che punto può arrivare. Ma per fortuna, e qua cambiamo pagina, non tutti hanno il cuore di pietra, c'è anche chi ha il cuore di carne e lo utilizza per fare del bene, come in questo caso, e qui ci riferiamo a una storia, quella di Erika Rossi, una donna di 37 anni, incinta, abbandonata dal suo compagno, un uomo maturo, un ristoratore fanese anche molto conosciuto, e che qualche giorno fa è stata sfrattata da un bed and breakfast dove alloggiava. E questo grido d'allarme che ha lanciato ieri attraverso il giornale è stato raccolto da molti lettori che hanno contattato la redazione e che hanno offerto a questa ragazza, a questa donna di 37 anni, un aiuto, una casa intanto dove poter stare in attesa che arrivi questo figlio, in attesa che lei possa rimettersi in sesto, possa rimettersi in piedi, possa tornare a camminare con le sue gambe, nel senso non che non cammini fisicamente, ma che possa rimettersi in piano e possa essere autonoma e dunque riprendere la sua vita con questa che sta in arrivo, che sta arrivando. Questa donna ha avuto una vita segnata senza nessuno al mondo, non ha un lavoro né alcuna amicizia, i genitori li ha persi quando era piccolina e lei dice vorrei rimanere a Fano dove venivo da piccola per le vacanze con i miei genitori. Poi si parla di carnevale qui sotto, più gente meno incassi, il botteghino avaro, come prima giornata di sfilate, il carnevale di Fano regala un primo dato in apparenza contraddittorio e comunque il fatto è che rispetto all'incasso e alle presenze del 2019, quindi dell'anno scorso, ci sono 1200 paganti in più ma 4000 euro di incasso in meno. Sono i dati ufficiali relativi alla prima domenica del carnevale di Fano che rispecchiano i numeri diffusi a grandi linee subito dopo la sfilata. Sono per l'esattezza poco meno di 11.900 unità gli ingressi nel circuito di Viale Gramsci con una spesa di circa 64.000 euro. Dunque sono stati incassati 64.000 euro per 11.900 biglietti strappati. Nel 2019, quindi l'anno scorso, erano state invece 10.700 le persone che avevano assistito allo spettacolo inaugurale della manifestazione, quindi alla prima sfilata, ma l'ente canale valesca aveva incassato 68.300 euro contro i 64 di adesso. Velocemente, ancora dai giornali, se vieni a Montefelcino paghi meno tassa. Il Comune decide di eliminare la Tari, la tassa dell'immondizia, per coloro che prendono casa nel piccolo Comune. E questo è un provvedimento, una misura straordinaria per frenare lo spopolamento dell'entroterra. A fine gennaio il Consulio Comunale di Montefelcino ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020 e 2022. La tassa però dei rifiuti verrà diminuita per chi decide di andare ad abitare a Montefelcino. Sulla variante di San Lorenzo ora è la volta buona. Cominciati i lavori che verranno ultimati a settembre. Il Sindaco dell'Onte dice finalmente, mentre Minardi parla di un'opera fortemente voluta. Complessivamente, per quanto riguarda i costi, i lavori per la circonvalazione verranno a costare oltre 10 milioni di euro. Mentre Talè sul digestore a barchi è un insulto a questo territorio già provato. Abbiamo conosciuto l'esperienza della discarica e di altri personaggi che qui hanno inquinato quel luogo. Sul Corriere di Senigallia bus degli studenti si scontra con due auto. Paura a bordo. Un dodicenne è finito in ospedale. Sulla via intitolata a Craxi, a Pesaro, Ricci assediato sulla via Craxi non mi aspettavo dice lui gli applausi. Contestata l'idea. Divide la città ed un cattivo esempio per i giovani ma il sindaco non retrocede e va avanti per la sua strada. Cantiere Rossini la prima pietra salva la skyline del San Bartolo quindi si potrà vedere dal porto il monte San Bartolo perché questi capannoni che verranno costruiti non occluderanno la vista e quindi non impediranno a turisti e residenti di vedere il San Bartolo. Il CEO Parvin dice a luglio conclusi i nuovi capannoni da questo design futurista almeno 60 le persone che verranno occupate in più. Orario dei treni invece la regione interverrà lo dice sempre Minardi soprattutto sul treno Ravenna-Roma che è stato posticipato dalle 6.58 alle 7.18 poi un uomo che un sessantenne che rubava a Villa nel gattile di Villa San Martino a Pesaro un sessantenne che rubava le crocchette al gattile per sfamare i gatti di casa sua è stato preso dopo vari appostamenti dagli agenti della polizia e poi questo palazzo la filiale di Banca d'Italia in Via Rossini a Pesaro con l'ampio parcheggio scoperto dove viene previsto un ristorante bene Banca Italia diventerà un emporio del lusso l'operazione è stata già discussa a Roma dietro c'è una compagnia europea nel settore della moda attiva nell'online e dietro quest'operazione c'è il commercialista Arnaldo Cappellini che dice non confermo ma nemmeno smentisco e poi muore Joanna Brown la lady delle calzature titolare dalla fine degli anni 60 dello storico negozio Boccioletti di Via Costa scozzese e pesarese d'adozione oggi alle 15 ci sarà il suo funerale nella chiesa di Santa Veneranda e poi verrà sepolta con il marito nel cimitero di Villa Fasteggi nella sua Pesaro con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti